Guardate la luna da in alto ragazzi come sta piano piano scendendo per arrivare il giorno in cui andremo a catturare Kaiogra all'interno della Pixamon Ragazzi benvenuti e bentornati in questo nuovo video di Minecraft Oggi andiamo alla cattura di un nuovo Pokémon leggendario per continuare a migliorare la nostra squadra Pokémon E chissà, magari aduggere in quella delle catture Comunque oggi salutiamo i campioncili che sono Ruxandra, Zu e Danilo che hanno commentato lo scorso video della Pixamon con l'hashtag Minecraftita E oggi nei commenti mi chiedo qual è il vostro leggendario preferito tra Graudon e Kaiogre e ditemi anche il motivo Già adesso io vi dico che il mio preferito è Graudon ma perché il mio ultimo Pokémon che ho realmente giocato è Pokémon Rubino Molto datato, il Pokémon Rubino ragazzi era il Pokémon dove c'era Graudon, c'era anche Rayquaza ma lì dentro Graudon era una roba mastodontica e bellissima Comunque non pensiamoci perché nell'episodio di oggi ragazzi dobbiamo fare questa cattura leggendaria Allora facciamo una cosa ragazzi, io devo prendere anche dei dischi Perché? Perché in realtà noi abbiamo solamente 62 Ultra Ball E sapete che noi ogni volta dobbiamo uscire con più Ultra Ball possibili perché se no è un po' un dilemma Allora, in realtà abbiamo pochissimi dischi di Ultra Ball come notiamo perché abbiamo solamente 14 di questi qua colorati giallo-neri Quindi appunto delle Ultra Ball Devo farmare un po' più di Gicocche Quindi mi sa che in un prossimo episodio o magari in live, non lo so, decidiamo un pochino assieme anche nei commenti Facciamo una nuova farm di Gicocche assieme ragazzi, giusto per capire un attimino perché questa qui funziona Però arrivo dopo un 3-4 episodio ogni volta che siamo sempre senza Ultra Ball o Dust Ball Perché comunque le Gicocche nere per esempio queste qua servono sia per le Dust Ball sia per le Ultra Ball Quindi, in realtà ci servono praticamente sempre per ogni tipo di crafting Allora, io metto a cuocere qua 18 queste qua e poi qua ne abbiamo altre nere che non ho ripreso l'altra volta Interessante, mettiamone qua Devo anche migliorare lo smistamento e ogni cosa Comunque, qua abbiamo preso tutto quanto, giusto? Sì, abbiamo preso ogni minima roba, ogni minimo dettaglio Devo prendermi anche un po' di spugne perché è lo Spooner dei Kaiogre Non so come abbia fatto Kendal che l'ha sponato fuori Ma, in realtà, quello che conosco io purtroppo è solamente sott'acqua Quindi potrebbe essere un grandissimo problema Io qua ho altri 64 Iron Base Più 7, i pulsanti che ho appena messo Ok, molto interessante Dovremmo dare anche tutte e quante le varie Megapietra a ogni singolo Pokémon Ma ragazzi, oggi noi non abbiamo tempo da perdere Dobbiamo assolutamente andare a catturare il nostro Kaiogre Perché io voglio avere sia Kaiogre che Graudon Perché? Perché in realtà Kaiogre Se ci uscisse magari molto potente Sappiamo quanto è veramente forte Kaiogre Quindi che ha un attacco molto alto e anche un'ottima velocità Potrebbe essere uno di quei Pokémon super in lizza Per la nostra squadra delle catture Perché adesso vi mostro ragazzi La squadra delle catture ha un Pokémon di tipo acqua Però è Greninja Greninja si ha delle ottime statistiche Però ha un'ottima velocità, ad essere onesti Ma ha l'attacco di Cone Rosso Quindi un valore troppo basso per essere un ottimo valore Quindi non ci va affatto bene Io spero che il Kaiogre che ci esca in questo momento Sia molto più forte rispetto al Greninja che abbiamo Potrebbe essere super super utile Invece Graudon ce lo teniamo nella nostra squadra In più, quanto noto ragazzi Abbiamo Lunala appunto al posto del nostro amico Graudon Oppure vediamo quale Pokémon possiamo mettere con noi in squadra oggi Anche se però, essendo al 53 Potremmo livellarlo per bene Allora, io non ho ancora ottenuto l'oggetto Che ci darà la possibilità di unire Scusatemi, Lunala con Necrozma E finora non possiamo unirli Che sarà un Pokémon in manda veramente in bestia Perché non vedo l'ora Ma, vi ricordo che in un prossimo episodio Dobbiamo anche sbloccare Mewtwo corazzato Però noi non abbiamo messo comunque un Pokémon in squadra Chi mettiamo? Mettiamo il Kyurem Reshiram Dai che può... No, però Kyurem Reshiram in questo caso è di tipo... Ma è tipo ghiaccio Quindi va assolutamente bene Avevo il timore che essendo che fosse fuso con Reshiram Fosse anche di tipo fuoco Ma comunque ragazzi Ecco là in fondo La zona dove noi otterremo il nostro Kaiogre Dato che Kendal lo ha già ottenuto Io spero che non abbia ancora catturato Graudon Perché quanto abbiamo notato nello scorso episodio Se non l'avete visto ragazzi Non perdetevelo sul mio canale Kendal ha migliorato un sacco la sua squadra Pokémon E questa cosa qui potrebbe essere un gran problema per noi Perché in questo modo lui potrebbe sfidarci E sconfiggerci in una prossima battaglia Comunque cerchiamo di togliere più acqua possibile Almeno in questa zona qua Almeno cerchiamo un attimino di respirare in più Vado a far cuocere anche le spugne Così poi togliamo ogni singola zona d'acqua E possiamo catturare i Kaiogre in santa pace Perché con tutta questa acqua potrebbe essere un gran problema Ok, direi che più o meno così va bene Dovrei andare a cuocere altre spugne Ma non ho voglia Allora, eccolo qua Il nostro spawner che volevamo utilizzare noi oggi ragazzi Prendiamo la nostra Faded Blue Orb Che sarà la pietra che ci darà la possibilità di spawnare Kaiogre E voi ragazzi siete pronti Per questa nuova battaglia ebrica Iniziamo Uuuuh ragazzi Eccolo qua Allora, mi sa che è spawnato di dimensioni un po' piccole Ma in realtà in questa battaglia Il nostro Kyurem ci potrebbe servire Perché se non mi sbaglio abbiamo delle mosse No, non abbiamo delle mosse che potrebbero paralizzarlo Ma abbiamo Dragonite con noi Non ho messo Darkrai in squadra Beh, allora facciamo così Paralizziamo con Thunder Wave col Dragonite Però ragazzi guardate Ci ha tolto un quinto di vita più o meno Ci ha tolto 60... No, quant'è? 65 di vita con un attacco Lui ha 70 paralizzato contro un Pokémon al 100 Interessante questo Kaiogre qua ragazzi Già si preannuncia un Pokémon molto forte Molto forte Allora, molto interessante Lui è tipo acqua Quindi gli Earth Power potrebbe fargli un bel po' di danno Ma noi li rifacciamo Perché voglio vedere quanto riusciamo a portarlo Soprattutto se riusciamo a portarlo a vita rossa No, ok Speriamo di non fare un critico con la prossima mossa Vita rossa Mamma mia Ragazzi ha la vita super rossissima Ok Si è ricaricato però un pochino Avete notato? Avete notato questa cosa? Allora Noi, si ragazzi Abbiamo due Master Ball Però non voglio utilizzarla Sapete il motivo solito Noi vogliamo utilizzare le Master Ball Solo con i Pokémon leggendari Quelli più difficili da catturare Come per esempio Nieto Shado Come per esempio lo sarà anche Arceus Questi Pokémon qua Quindi Più avanti verranno utilizzate Se Poi Per esempio Kaiogre Essendo che è un Pokémon che ci vuole molto Per farmarlo Come avete notato la pietra l'ha avuta per più di una settimana Quindi Anche lui è un Pokémon in lizza Guardate che sta ricaricando anche la vita Dicevo È uno di quei Pokémon in lizza Per utilizzarla a Master Ball Perché Per catturare Kaiogre Bisogna far fuori 500 Pokémon di tipo acqua Avete capito? Molto bene ragazzi Dove sta andando il microfono? Aiuto Aiuto Allora Quindi ci vuole veramente tanto Per catturare Kaiogre Comunque Allora Cerchiamo un attimo di capire Perché qua Il campioncino Nelle Ultra Ball Non vuole entrare Quindi proviamo a vedere Se ora ha voglia Proviamo a lanciare un'altra Ultra Ball Allora Un giro Due giri Tre giri Al terzo giro Però notate ragazzi Che piano piano Lui sta ricaricando la vita Quattro Quattro Come se non volesse farsi vedere Il campioncino Molto furbo Utilizza la tecnica furbizza di The Mark E piano piano si ricarica Non lo so perché si ricarica Forse perché nel suo ambiente naturale Allora Due giri No Due giri Due giri Due giri Si ricarica ancora Due giri Si ricarica ancora Io non lo voglio attaccare in questo momento ragazzi Perché credo che con Mewtwo Ora con la vita che ha Potrai eliminarlo completamente Quindi Aspettiamo un pochino Al massimo si ricarica tutta quanta la vita E lo andiamo ad attaccare con Mewtwo Con la mossa che meno danno li potrebbe fare Però Ehehe Qua ragazzi Questa qua sta esagerando eh Ci ha fatto quasi fuori Mewtwo eh Ok Si è ricaricato Maxato quasi la vita Io andrei Di 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 cosa Di lanciafiamme Shadowbowl Uuuuh Mamma mia ragazzi Quanto danno ne ho fatto Mi sa che se li avessi fatto Lanciafiamme Che toglie più 15 Rispetto che a Shadowbowl Abbiamo rischiato di eliminarlo completamente Sicuramente ragazzi Quindi Facciamo ancora che andiamo ancora un po' di Ultrabowl Cambiamo ball Andiamo di Vi ho detto di fare tanto i repeat ball Perché è una ball utilizzata soprattutto se fai tanti lanci di ball E oggi ne abbiamo fatti tanti Però mi sa che oggi non funziona eh La repeat ball non sta funzionando Il vostro consiglio Oggi La pixel Non lo vuole ascoltare Però due giri No Allora cambiamo Perché sappiamo tutti quanti che le Dustbowl Anche se non è piena notte Sono molto utili Ne abbiamo tantissime ragazzi Perché nei scorsi episodi Ne abbiamo craftate veramente tante Ne abbiamo 74 Però Il nostro campione Kyogre Non vuole entrare Dannazione Eccola qua La Dustbowl Che gira due giri No Ancora due giri Intanto lì si ripristina sempre di più la vita Allora C'è un piccolo rischio ragazzi C'è un rischio che lui si faccia fuori Perché poi finisce le mosse Tre giri Uuuuh Al terzo giro è uscito Allora Al terzo giro Il campioncino supremo di Kyogre è uscito Un giro Due giri Tre giri E andiamo col quarto No Kyogre Dai dannazione Fatti catturare Fatti catturare Kyogre Che io voglio Ti voglio in team Poi dobbiamo sbloccare Dobbiamo trovare L'altare del Kyogre Quello archio Allora Sta continuando a fare tre giri Io ve l'ho detto Che comunque le Dustbowl Hanno questo potere Di far fare veramente Tanti giro alla ball Quindi poter catturare Più in fretta i Pokémon Terzo giro No No Si è ancora ricaricato la vita Ma non ci sta più attaccando Quindi probabilmente Questo Kyogre Ha finito le mosse Di tipo Di fisico Non so come definirle Quindi su questa cosa qua Non so se mi spaventa O mi piace Perché c'è il rischio Che lui poi Si faccia auto eliminare Quindi Vediamo un attimino Cerchiamo Di utilizzare Altri Dustbowl Se si ricarica ancora Tutta la vita Andiamo di Shadowbowl E proviamo a catturarlo Dustbowl No Eh ragazzi Si è ripristinato la vita Allora Io un altro Shadowbowl Io lo faccio Vita rossa Però gialla Guardate come ritorna di vita Eh Tosto 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 Un giro Due giri Dai 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 Ma perché prima con più vita Giravi di più nella Dustbowl Vediamo Controlliamola per bene Un giro Due giri No Non vuole farsi catturare Ragazzi Che facciamo Perché qua Sembra veramente tosta Come battaglia Forse Dive Ball Che è una ball Che per catturare i Pokémon Che stanno sott'acqua Vediamo No Non ha funzionato Proviamo Proviamo un'altra volta Ragazzi Sto per non saperne leggere Ne scrivere Riproviamoci Un giro Due giri Eh se Dopodomani ragazzi Lo catturiamo di Dive Ball Eeeh Ve l'ho detto ragazzi Meriterebbe Una Master Ball Solo per il fatto Che per catturarlo Ci vogliono veramente Tantissimo tempo Perché lui Bisogna eliminare 500 Pokémon Di tipo acqua Ed è un parto lunghissimo Cioè Pensate 500 Pokémon Di tipo acqua Quindi vado ancora Di altri Due tre Ultraball Ragazzi Poi andiamo di Master Ball Perché se non vuole entrare Non vuole entrare Rischiamo veramente Di fargli finire Tutte le mosse Ed è un disastro Apocalittico Ultima Ultraball E poi andiamo di Master Ball Ragazzi Vediamo Uno Due No Niente Va bene ragazzi È il momento della Master Ball Non voglio rischiare Spero che voi Abbiate capito Perché stiamo Sacrificando una Master Ball Ragazzi Comunque un Kyogre È un Pokémon Che se ti riesce Tanto potente Può rientrare In una squadra Pokémon Molto più potente Di quanto voi pensiate Comunque Adesso andiamo Un attimino Anzi facciamo Che ci tipiamo Sweetissimo a casa Per andare a controllare Subito le sue mosse Sono felice comunque Di aver utilizzato Una Master Ball Ragazzi Però voi ditemi Nei commenti Se ho fatto bene o male Allora Kyogre Osserviamolo assieme Eccolo qua Il nostro campioncino Master Ball Master Ball Allora Eccolo qua Buongiorno Buongiorno Signor Kyogre Secondo me Sono uscite Dimensioni piccole Quindi infatti Dimensioni piccole Mosse Origin Pulse Togli tantissimo Circle da eliminare Aqua Link da eliminare Scary Face da eliminare Ma ancora andiamo Nella zona di fere Attacco alto All'attacco alto Ragazzi Come vi avevo chiesto All'inizio del video Vi avevo detto All'inizio del video Tanta roba E anche un'ottima velocità Molto 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 bene Allora In un prossimo video Da Pixamon Miglioreremo le sue mosse E cercheremo anche di capire Se ne troviamo Magari Visto che abbiamo catturato E' già spawnata la zona Per ottenere l'archio Kyogre Lo vedremo assieme Lo vedremo assieme Da Mark è tutto ragazzi Vi dovete lasciare un mi piace A scegliere uno dei video Qua davanti Ciao ciao